Ciao ragazze, allora nuovo video, per questo video ho pensato di parlarvi di alcuni dupe di profumi famosi che ho scovato proprio nell'ultimo periodo, in realtà sono stata contattata dall'azienda Unique questo però non è assolutamente un video sponsorizzato, io ho deciso subito di accettare perché vedendo il loro sito web ho visto che trattano profumi di nicchia e molto molto famosi e tutti questi profumi sono venduti a prezzi ottimi Unique è un'azienda appunto che rivende tantissimi profumi, più profumi appunto di nicchia introvabili o vere e proprie essenze naturali e visto che tantissime di voi spesso mi chiedono dupe di profumi come Creed, come Tom Ford ho deciso appunto di parlarvene in questo video e sul loro sito ufficiale potete trovare questi profumini questo vedete è utilizzato perché prima di girare il video ho deciso di provare e di far provare a mio marito alcuni di questi profumi giusto per capire la durata sulla pelle perché comunque non mi va di espormi e di parlarvi di un prodotto che non ho provato né su di me o magari neanche su un'altra persona sul loro sito web potete trovare questi campioncini che praticamente contengono 8 ml di profumo che vi assicurano 120 spruzzi appunto della fragranza che andrete a scegliere la cosa positiva che ho riscontrato in Unique è che non vi permettono di acquistare il vero e proprio profumo formato grande che naturalmente avrà un prezzo molto molto alto essendo comunque profumi di alta profumeria ma con il contributo di 17,95€ al mese potete fare una sorta di abbonamento tra virgolette e scegliere voi la fragranza che più vi piace per poi farla arrivare direttamente a casa vostra quindi con 17,95€ ogni mese vi assicurano l'arrivo della boccettina di profumo da 8 ml quindi da 120 spruzzi che potete utilizzare nell'arco di tempo fino a quando poi non vi arriverà la profumazione nuova in questo caso potete scegliere ogni mese un profumo diverso se magari volete cambiare e provare una fragranza nuova oppure se siete affezionati a quel determinato profumo come ad esempio lo sono io scegliere sempre lo stesso e farvelo arrivare direttamente appunto allo scadere del mese successivo vi lascio comunque nell'info box il link diretto al sito web un codice sconto del 25% per il primo ordine in questo caso andrete ad acquistare con il primo mese il primo profumo non a 17€ ma a 17€ meno il 25% di sconto volevo un attimo parlarvi ora di tutti i profumi che possiamo trovare sul loro sito ufficiale l'azienda mi ha dato la possibilità di provare ben 6 profumi e sono nello specifico Noir di Tomfor questo profumo qui è un profumo maschile ma spesso in profumeria vedo che lo applicano o lo acquistano anche moltissime donne infatti anche a me come profumazione piace moltissimo questa fragranza corrisponde appunto a questo profumino qui che mi è arrivata direttamente con questo sacchettino molto elegante con il simbolo la Ypsilon di Unique vi farò la recensione a fine video perché comunque voglio parlarvi bene di tutti i profumi secondo profumo che sto provando è O Legend della marca Montale il profumo in questione vedete la boccettina è questa e a me è arrivato sempre con il solito portaprofumo con la Ypsilon e con il primo ordine oltre ad arrivarvi diciamo la boccetta spoglia avrete anche questo bellissimo portaprofumo che si apre facilmente in questo modo e dal quale potete estrarre e rimettere il profumo facilmente il profumo è davvero molto buono più speziato e particolare e secondo me adatto soprattutto diciamo alla stagione invernale ho notato che i profumi di Montale sono delle vere e proprie essenze di profumo a cui io non mi ero mai avvicinata ma che mi stanno piacendo davvero moltissimo passiamo poi ad Intense Caffè sempre del marchio Montale che è diventato in questi giorni uno dei miei profumi preferiti mi è arrivato sempre nella solita confezione nera con la Ypsilon però questa volta con il portaprofumo infatti il portaprofumo maschile o femminile questo è quello diciamo oro rosa e femminile vi arriverà sempre con il primo ordine devo dirvi che Intense Caffè è diventata da pochissimo una delle mie fragranze preferite non me lo aspettavo assolutamente però come profumazione si sente proprio moltissimo e rimane davvero per tantissime ore sulla pelle sto poi provando due fragranze del marchio Seriof e la prima è la XJ 1861 Naxos e corrisponde a questa fragranza mi è arrivata come sempre nella confezioncina nera e il profumo è davvero molto molto particolare speziato e davvero buonissimo mi piace molto passiamo poi a questa con questa confezione diciamo viola si chiama Muse Muse è un profumo classico abbastanza particolare trovo che sia una fragranza sì molto intensa ma anche molto speziata e invernale infatti questi profumi Seriof li consiglio soprattutto appunto nella stagione più fredda perché danno proprio l'idea di Natale, Autunno eccetera infine un profumo che non vedevo l'ora di provare e di far provare a mio marito è Creed naturalmente la fragranza si chiama Adventus è questo profumo qui famosissimo Creed è un profumo maschile buonissimo che davvero ci sta piacendo moltissimo sia a me che al patatone se posso farvi una recensione un po' in generale su tutti i profumi che ho provato posso dirvi che Creed e Noir di Tomford come profumazioni maschili o comunque tra quelle più intense più uomo mi stanno piacendo moltissimo e acquistate appunto su Unique hanno anche un prezzo eccezionale sono rimasta davvero entusiasta anche dalle due fragranze di Montale che sto provando perché ho sentito parlare soprattutto sul web di questi profumi ma non li ho mai provati dal vivo e devo dirvi che mi stanno piacendo tantissimo forse quelli che sto apprezzando di meno sono l'Ixeriof perché li trovo molto più intensi a me piacciono i profumi intensi ma questi di Montale sono davvero più aromatici quindi mi hanno attratto maggiormente già dalle prime spruzzate comunque tutti questi profumi ho notato che sulla mia pelle hanno una durata più o meno di 5-6 ore ma sono rimasta davvero entusiasta sia dal servizio di Unique perché mi è piaciuto molto e non mi aspettavo ecco qualità proprio a livello di fragranze del genere con questo ragazze è tutto vi mando come sempre un bacio grande ricordatevi di lasciarmi un bel pollicento di supporto iscrivervi al canale attivando la campanellina fatemi sapere se avete mai provato il servizio di Unique se vi siete trovate bene o meno e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao